E l'abbiamo fatto, però per quelli che sono là di sotto il metro e il barattolo, e vedo che ce ne tanti, sono pronto a spiegare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.